Pizzo scarica per Simone Nulli Vediamo Ramidi Ramidi allarga il gioco per Simone Nulli Tira il gol! Porta in vantaggio il Parma Il Parma ma sbaglia Alessandro Domma Ancora Corradini il sinistro e il gol! Grandissimo gol di Corradini all'incrocio dei pali Corradini riparte Stopponi Vediamo adesso Ramidi si libera di Profeta Ramidi il tiro e il gol! Riprende la posizione Geraci al centro della difesa Sale Stopponi lo vede adesso Ramidi la mette in mezzo Splendio il passaggio per Simone Nulli e il gol! L'incrocio di Ramidi all'incrocio dei pali Vediamo Simone Nulli prova a liberarsi di Somma Ancora vince il contrasto Nulli il tiro! Palo palo! Polegri Di Somma Di Somma scarica per Profeta Superiore da numerica Profeta Il tiro e il gol! Tra Profeta e Ramidi lo vince il difensore del Verona Grafeo il tiro! Paradona di Pizzo Ancora Grafeo Vediamo se proverà il sinistro E tira il gol! Davanti al portiere All'occasione di portare il risultato sul 5-3 Ma sbaglia Grafeo Il sinistro e il gol! La piazza all'angolino Grafeo Vediamo Stopponi cerca Ramidi interviene Di Somma Il sinistro Vale attenzione! La palla è entrata e c'è il gol di Di Somma Vediamo Ramidi la mette giù È solo Ramidi Il tiro e il gol! Del re della Macedonia Issen Ramidi Grafeo interviene Geraci e salva Meduri scarica per Coradini Il sinistro di Coradini Paradona di tomba Il gol di Grafeo Di Polegri Riparte il Verona con Grafeo Ancora Grafeo rientra sul destro Si libra di Simone Nulli Velocissimo Grafeo La mette in mezzo Vediamo Coradini Il sinistro di Coradini Il gol! Ancora lui! Ora Meti cerca Nulli Ancora Nulli Gli ruba il pallone Di Somma Profeta per Grafeo È solo scarica per Di Somma Il gol in contropiede del Verona Perra il Simone Nulli Cerca Ramidi Ma riparte in contropiede del Verona Vediamo Di Somma È libero Grafeo Lo vede adesso Grafeo Sforbicia del gol! Grandissimo gol di Grafeo Mi ha asciutto Ancora Di Somma Di Somma La piazza E lo fa il gol di Somma Triplette In questo momento Finisce il match Di Somma Grazie a tutti.